Cari amici della Medicinima, con tutto il cuore vi mando un grande abbraccio. Stiamo attraversando un momento molto complicato e dobbiamo più che mai proiettare i nostri pensieri verso la positività. Uno di questi è il cinema. Il cinema ci fa sognare e dà una prospettiva completamente diversa del momento presente. Un film che mi ha lasciato un grande segno nel cuore si chiama The Family Man con Nicolas Cage. Parla di un uomo d'affari, freddo e concentrato sulla propria carriera. Però a lui viene data la possibilità di dare un'occhiatina in un'altra vita. Se lui avesse scelto di sposarsi e ad avere una splendida famiglia. Una moglie incantevole e due bellissime figlie. Ecco, e qui che accade la magia, perché niente potrebbe essere più bello di avere una vera famiglia. Per me è un film meraviglioso. Fa emozionare e fa rivedere completamente la scala dei valori. Ve lo consiglio vivamente. Un grande abbraccio e state bene. State bene perché serve a voi e soprattutto a chi vi vuole bene. Un abbraccio da Giulia. Un abbraccio da Giulia. Grazie.